allora ragazzi dimostrazione della clinique take the day off vedete sono truccata in questa maniera quindi un normalissimo trucco eccolo qua prendiamo una certa quantità di prodotto lo scaldo così nelle mani e lo passo negli occhi nel sopracciglia poi in tutto il viso lo massaggio negli occhi finché non sento che tutte le tutto il prodotto è andato via finché essendo le ciglia secche vuol dire che un prodotto da togliere ne prendo un altro po' lo metto nel viso lo ripasso negli occhi e adesso sciacquo tutto con l'acqua sciacquiamo per bene e ci asciughiamo e ci asciughiamo ok mini shampoo ancora non sento più le cinghia secchi quindi io il prodotto non ce l'ho più negli occhi ecco fatto gli occhi sono perfettamente struccati magari qualche residuo ma proprio una roba minima qua sotto magari però vedete le cinghia le sento morbidissime che vuol dire che non c'è più il prodotto addosso e scusate ecco qua il prodotto è stato tolto proprio del tutto se ci fosse ancora prodotto si vedrebbe non so perché quando metto il filmato il cellulare lo smartphone in orizzontale io guardo dritto vi giuro che guardo dritto il mio sguardo a video si vede di qua non so perché comunque questo risultato gli occhi sono perfettamente struccati senza sbavature a quest'ora con i normali detergenti avrei gli occhi a panda e con questo no quindi tutta la vita clinique take the day off super mega consigliato ciao ciao Grazie a tutti.